Il Klingon Leader è un prodotto direi eccezionale per il semplice motivo che è un prodotto molto innovativo. Questo comporta una treccia di grosso diametro, qui si sta parlando di un 40 libre, molto affondante ma priva assolutamente dell'anima di piombo. Lo possiamo usare tranquillamente in qualsiasi ambiente, è assolutamente privo di memoria, in questo caso la morbidezza di questo trecciato evita praticamente qualsiasi tipo di danno. È un trecciato di grosso diametro quindi sicuramente molto resistente ai nodi, molto resistente anche all'abrasione perché è stato creato per essere molto resistente all'abrasione. Ha la possibilità essendo cavo di realizzare delle ottime asole molto facilmente con un piccolo aghino o con del filo armonico o con un'asola, comunque le classiche asole da Letcore. Direi che questo prodotto viene fornito in tre colorazioni diverse per avere la massima mimetizzazione su qualsiasi tipo di fondale. Ogni bobina contiene 10 metri di treccia. Direi che il Klingon Leader è un ottimo Letcore da utilizzare in qualsiasi tipo di acqua, in qualsiasi tipo di ambiente e avete sempre degli ottimi risultati.